Ciao ragazzi, oggi vi parlo di come studio, come prendo gli appunti a lezione, come li riscrivo e come mi organizzo a casa. Vi faccio vedere anche un po' i miei quaderni, non perdiamo altro tempo e iniziamo il video. Riassumo in breve lo schema, è molto semplice. Allora, io vado alle lezioni e prendo gli appunti di quello che i professori spiegano, poi arrivato a casa, risistemo gli appunti, riscrivendoli sul nuovo quaderno o sistemando quelli che non riscrivono, prendo già direttamente in bella. Quando ho finito di fare questo, parto a... ovviamente mentre li sistemo, li studio, quindi cerco di capire attentamente quello che è stato spiegato, rifare dimostrazioni se ce ne sono, rifare esempi magari da solo, degli esercizi di esempio, e poi alla fine di questo prendo i temi d'esame degli anni precedenti e gli esercizi e cerco di farne il più possibile per vedere se davvero ho capito e prepararmi anche per quello che poi sarà l'esame effettivo. Questo è l'iter principale che seguo. Ora, andandolo a spezzare passo per passo, vediamo un po' nel dettaglio come faccio i vari step. Come prendo gli appunti a lezione? Allora, a lezione cerco di focalizzarmi bene sui concetti importanti che il professore dice o spiega e soprattutto sugli esempi, perché a me piace molto l'insegnamento per associazione con esempi pratici, e cerco di riuscire a trascrivere, senza perdermi quello che il prof dice, il più possibile. Cerco proprio di non lasciarmi perdere neanche nessun particolare, nessun dettaglio, in modo tale che quando arriverò a casa, li leggerò, li scriverò, avrò bene a mente tutto il chiaro completo di quello che sta succedendo nella dimostrazione di un teorema, nella spiegazione di qualche principio, e quindi cerco proprio di essere meticoloso. E la maggior parte degli appunti che prendo io sono ancora fedele al metodo carta e penna. Mi trovo bene così, riesco a scriverle veloce, poi avendo i fogli sotto mano, riesco a fare frecci e disegnare schemi più velocemente. Vi faccio vedere qualche esempio di qualche appunto che prendo durante la settimana. Questi qua sono gli appunti del corso di basi di dati, non fatevi ingannare dall'ordine, queste erano le lezioni introduttive in cui non c'era molto da scrivere, avevo parecchio tempo per impaginare bene, quindi sono abbastanza ordinati, però andiamo avanti, più andiamo avanti, più potete vedere che il disordine aumenta un po'. Ok, queste qua sono delle cose di ripetizioni, perché do anche ripetizioni nel frattempo che studio. Può succedere questo quando ci sono degli appunti presi in brutta, e qua sempre l'architettura dei calcolatori, insomma questi qua sono i miei appunti in brutta. Cerco sempre di utilizzare quaderni fatti con questa tipologia, quindi che anche se i banchi sono qui con l'università, il problema non c'è perché si richiude su se stesso, cosa che è più scomoda da fare con questo tipo di quaderni qua, quelli classici quadernoni. Poi a me piacciono tantissimo quelli della Fabriano, in tanti mi avete chiesto dove si comprano questi in particolare, ho cercato sul sito e purtroppo non li hanno, io li prendo al CUSL, al Politecnico di Milano, che è la cooperativa di studenti che vende prodotti di cartolleria, se vi interessa li trovate. Potete venire a prenderli anche se non fate il Politecnico, nella sede a Milano Città Studi ce ne sono due, all'edificio 11 di architettura e all'edificio 3 di ingegneria, se vi interessa sapete dove trovarli. Ultimi ma non meno importanti, carico in vecchi fogli cartacei sfusi, anche loro ogni tanto li utilizzo, comodissimi per i banchi piccoli perché anche se non ci state in altezza potete farlo incastrare sotto il banco, scrivere sotto, questi sono il metodo più comodo per prendere appunti ma più scomodo per organizzarsi perché poi ecco, vedete cosa succede. Una volta raccolto tutto questo materiale il mio lavoro si sposta dall'università, dalle lezioni, a casa o in biblioteca, secondo dove ciò voglio andare a studiare, in cui c'è la fase di trascrizione degli appunti o risistemazione degli appunti già scritti in bella, per esempio alcuni corsi come mi ricordo l'anno scorso Statistica e Automatica, prendevo sempre solo appunti in bella, quest'anno è il corso di basi di dati, prendo appunti in bella perché mi trovo meglio così. Una volta con i quaderni sistemati, riscritti, sottolineati, belli schematizzati, inizio a recuperare tutto il materiale che mi potrebbe servire extra rispetto agli appunti, libri, slide che forniscono i prof, materiale su internet, io uso tantissimo internet, vi consiglio di usarlo anche a voi, cioè ragazzi avete a casa un computer con google, aprite e cercate quello che vi serve, state tranquilli che prima o poi qualcosa trovate. È pieno di esempi, argomenti extra, stessi argomenti spiegati in mille modi diversi, così riuscite a farvi proprio un quadro completo della situazione, utilizzatelo, ve lo consiglio. Eccoci ragazzi, vi faccio vedere un esempio di appunti ricopiati, utilizzo questo quaderno con la rilegatura, quindi le pagine le potete girare e chiudere così e occupa pochissimo spazio. Questi qua sono gli appunti del corso di algoritmi e principi dell'informatica. Cerco sempre di tenere un filo logico e di organizzare le mie pagine tenendo le belle ordinate senza fare troppa confusione e man mano che ricopio e scrivo la versione definitiva degli appunti cerco proprio di capire, ripetere al momento per vedere se ho imparato bene tutte le dimostrazioni e tutte le cose che sono state spiegate dal professore. Qua era la parte degli algoritmi, delle strutture dati. Questo è un altro esempio di quaderno di appunti ricopiati, qui è un corso di automatica, un po' diverso e questo quaderno mi piace un casino perché ha le linee molto sottili, a me piacciono i quaderni con le linee dei quadretti sottili che lasciano proprio spazio al testo scritto, poi io scrivendo in nero se avessi le linee marcate il testo si farebbe più fatica a leggere. Vedete questi qua sono appunti ricopiati. Tutto il materiale che riesco a raccogliere lo organizzo sul mio computer oppure i libri li tengo qua sopra, i quaderni qua come potete vedere. Comunque nel mio computer ho una cartella dedicata all'università, adesso ve la faccio vedere, in cui ho tutto strutturato in maniera gerarchica e facile e veloce da accedere in modo tale da avere tutto ben organizzato e non perdermi via tra mille cartelle sul desktop. Poi ragazzi io qua sul computer ho una cartella organizzata e divisa per anni scolastici in cui per ogni anno ho la suddivisione per semestre e corsi di ogni semestre, come potete vedere, e all'interno di ogni corso, quest'anno tutto per la divisione unica, non per i semestri, all'interno di ogni corso ho tutto il materiale che possono essere gli esercizi, quello che il professore fornisce, eventuali programmi, eventuali slides e tutte queste cose qua. Organizzandole in maniera gerarchica per me è facilissimo trovare materiale, inserire nuovo materiale all'interno della cartella, per esempio all'inizio di un nuovo anno accademico o cercare esercizi specifici di un corso, magari voglio andare a cercare un tema d'esame che avevo fatto, per esempio per qualche strano motivo vorrei andare a pescare qualche esercitazione di analisi 1 del primo anno, addirittura io cosa che facevo? spuntavo quelle che avevo già fatto, ok? Così quando riaprivo la cartella non dovevo per forza ogni volta andare a riguardarla, a riaprirla, andare a vedere se l'esercizio era giusto, così è tutto molto più facile, quindi io vi consiglio di organizzarvi una cartella sul computer in cui avete tutto il vostro archivio dell'università. La parte di studio a casa, la sera, il pomeriggio, la mattina quando non sono all'università, in cui faccio i temi d'esame degli anni precedenti, gli esercizi, è la parte più importante, quella in cui tutto il quadro si completa e i pezzi si uniscono del puzzle. Io mi trovo bene a studiare sulla mia scrivania, luce accesa, tante volte spengo anche la luce principale, quindi il setup cambia, diventa quello che state per vedere. Questo qua è il setup, la sera. Poi alla fine del mio studio per una materia, quando siamo prossimi all'esame, cerco di arrivare qualche giorno prima ad aver proprio finito tutto, sapere tutto, e passare gli ultimi giorni a ripassare, magari rivedere proprio i temi d'esame più difficili, che non ho ben capito, o alcune tipologie di esercizi che mi hanno dato problemi mentre li studiavo. L'ultima cosa importantissima, ragazzi, è la costanza. La costanza, ragazzi, perché vi voglio parlare della costanza e perché insisto sul fatto che sia così importante? Partiamo da me, io non sono uno studente modello, anzi sono ben lontano da essere uno studente modello, credetemi. Chiunque voi siate, la costanza per raggiungere i vostri obiettivi è fondamentale, credetemi. Quando ci si pone un obiettivo, ci saranno due momenti difficili. La partenza, partire per iniziare la camminata per poterlo raggiungere, è quella che io chiamo la crisi trimestrale, la crisi del primo periodo, quando dopo che avete superato il primo scoglio della partenza, sta andando tutto bene, arriva un periodo di crisi in cui non vedete risultati tangibili o non li vedete, vi sembra che è un po' che stete lavorando ma forse l'obiettivo è troppo lontano per poter essere raggiunto, ecco, passati questi due step, voi non dovete mollare mai, neanche un centimetro, anche quando vi sembrerà che vi state allontanando dall'obiettivo, nel senso che vi sembrerà che non lo state raggiungendo, che siete fermi, che sia la palestra che non vedete il corpo che cambia, che sia lo studio che vi sembra che non capiate, insistete, cercate di capire se state usando un metodo migliore, se c'è qualcosa che vi sfugge ma non mollate e vedrete che come per magia, da un certo momento in voi ci sarà uno skyrocket dei vostri obiettivi, inizierete ad avvicinarvi tanto, a raggiungere i primi, vi verrà più fame per porvene degli altri e raggiungere quelli che già vi eravate posti. Questa è la chiave di lettura per tutto, credetemi, fatelo, spero che il video vi sia piaciuto, non vi ruolo altro tempo, ci vediamo con il prossimo, ciao ragazzi!